ben tornati a toy radio la radio che al contrario fa senza indugi partiamo subito con un collegamento dal nuovo mondo i pionieri bach e mary sono ancora da qualche parte laggiù nella prateria diretti verso ovest sono mesi che siamo in viaggio e non abbiamo ancora incontrato nessuno ma sei sicuro che la strada sia giusta ma che ne so mary la prateria è tutta uguale non è possibile orientarsi dannazione ma bach puoi regolarti con il sole di giorno e con le stelle di notte e poi con il muschio il muschio me lo fumo mary ma bach non sei tu un giovane cowboy coraggioso romantico e un po canaglia si mary ma questo non vuol dire che sono una dannatissima bussola maledizione mary una freccia comanci ci hanno visti oh bach ho paura bach non è il momento di aver paura mary oh bach baciami bach non è nemmeno il momento di baciarsi mary adesso è il momento di mettere i carri in cerchio armarsi e dare l'allarme oh bach anzi no prima diamo l'allarme poi ci armiamo e poi mettiamo i carri in cerchio oh bach quando sei così deciso mi ecciti baciami bach ti ho detto di no ma bach piantala oh bach hai rotto il calo questo bach oh bach basta perché mi tratti come una cacca oh bach basta in fondo sono un pezzo di gnocca bach basta continui a fare testa di cazzo io bach ti infilo un nel del Aaaaaah!